Invece ad Assisi si svolgerà dal 19 fino al 21 di questo mese il primo salone mondiale del turismo città e siti UNESCO. I luoghi più belli del mondo si incontrano dal 19 al 21 novembre ad Assisi, l'unica città umbra inserita nella lista del World Heritage dal 2000 in occasione del primo salone mondiale del turismo città e siti UNESCO. La Borsa Internazionale Annuale, nata con l'ambizione di valorizzare le peculiarità di questi siti unici e insostituibili e di favorire, in un'ottica del turismo sostenibile, un circuito di itinerari accattivanti, competitivi e facilmente fruibili. L'evento, aperto al pubblico, oltre che ai professionisti di settore, si svolgerà nello storico Palazzo Monteflumentario che ospiterà oltre 100 stand e nella sala papade del Sacro Convento di Assisi della Basilica di San Francesco che ospiterà la parte scientifica della manifestazione con incontri, dibattiti e convegni. Che sia un convegno di grandissima importanza, si ben si inserisce nelle strategie che tentiamo di sviluppare per promuovere il turismo e soprattutto però la conoscenza delle nostre eccellenze, della qualità della nostra regione. è un'iniziativa che da un lato cerca di promuovere le eccellenze del patrimonio culturale e ambientale italiano perché comunque si tratta di luoghi che sono le punte di eccellenza del patrimonio culturale e ambientale italiano ma in particolare si cercherà di capire con questa iniziativa quali sono le migliori forme di turismo e in questi luoghi d'eccellenza.